Castellabate ottiene la bandiera blu dal 1999 lavorando anno dopo anno per mantenere e migliorare gli standard qualitativi in materia di acqua, ambiente, pulizia, raccolta differenziata, servizi turistici. Anche nel 2020 si potrà vedere sventolare il vessillo Fee lungo la costa di un'area marina protetta di grande pregio, incorniciata da due promontori di innegabile bellezza, puntalicosa e puntatresino. L'elenco dei comuni premiati a causa dell'emergenza Covid-19 che non ha permesso l'organizzazione della cerimonia in presenza è stato ufficializzato in una diretta Facebook organizzata dalla Fee Italia che ha messo in collegamento i rappresentanti delle località balneari di tutta Italia. Hanno assistito alla cerimonia in rappresentanza di Castellabate il sindaco Costabile Spinelli e il responsabile dell'ufficio di promozione turistica e culturale Enrico Nicoletta. Un riconoscimento prestigioso che ci inorgoglisce, malgrado le limitazioni che a causa dell'emergenza ci saranno nel settore turistico e che ci sprona a continuare a puntare sull'ambiente e sul turismo di qualità in un territorio che ad oggi può vantare anche un primato sanitario essendo Covid-free, commenta così il vice sindaco con deleghe al turismo e alla cultura Luisa Maiuri e l'assessore all'ambiente Domenico Di Luccia. Quest'anno, viste le difficoltà del settore dovute al contenimento del contagio, la bandiera blu deve rappresentare un simbolo di speranza affinché questa stagione balneare segni un momento di riorganizzazione per l'intero comparto turistico.